Sì, ma spostati di lì così, almeno c'è la via di fuga. Ho perso. Vieni, vieni che è buona. Diritto, diritto che è impegnata la legge. Diritto, diritto, diritto. Arriva, 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 via, 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 via. Vieni, 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 vieni. Vieni, 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 vieni. Vieni, 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 vieni. Ciri, ma che abbiamo bisogno di tuoi attrezzi, vieni. Guarda che arriva il cifone, quindi ti conviene star lì parcheggiato. Arriva il cifone, non so dov'è ma arriva. Quindi ti conviene parcheggiarti in fretta. Ciri, ma giungo che è un bisogno di attrezzi. Ma se che ti muovi. Caccio, calzucchetti, tira il via che le ti mette in fai. Ma che cacchio, te ne frega il coso lì. Grazie. Grazie. Grazie.